Dieci anni di ricordi, di emozioni, spesso all'insegna delle soddisfazioni di pari passo con la crescita del movimento paralimpico molisano. Sono raccontate nel libro di Stefano Venditti dal titolo CIP Molise 15 marzo 2008-15 marzo 2018. L'opera del giornalista Campobassano, edita dalla casa editrice Pubmi per la collana Policromia, raccoglie articoli e foto che, sapientemente legate, diventano minuzioso racconto. Beh, è arrivato dal cuore. È un omaggio dovuto al CIP Molise che ho sentito dal profondo, che forse adesso che sono lontano dal mio Molise, ormai sono tre anni che non risiedo più nel mio Molise, l'ho sentito ancora di più. Ho cercato di sintetizzare tutte le emozioni, le forti emozioni che ho provato io, come ha detto Stamberg, che hanno provato ogni singolo atleto del CIP Molise, nei primi dieci anni di vita del Comitato Italiano Paralimpico Regionale. Alla presentazione intervenuti dirigenti, tecnici e atleti che, negli anni, hanno contribuito alla crescita del Movimento Paralimpico Regionale, con in testa il presidente del CIP Molise, Donatella Perrella. In questi dieci anni siamo cresciuti tanto, è cresciuto proprio il Movimento Paralimpico e questo libro ne è la testimonianza. Mi è piaciuto anche vedere tanti episodi che avevo anche dimenticato, perché veramente abbiamo in quegli anni lavorato tantissimo. Soprattutto ecco un'altra cosa che mi ha commosso è vedere i ragazzi, perché tanti erano proprio bambini, erano piccoli, erano alle prime armi, oggi sono giovanotti, signorine, siamo cresciuti tutti, tutti insieme. In concreto c'è raccontata la vita di uomini, di donne, di allora di ragazze e di ragazzine, che grazie allo sport sono maturati e sono cresciuti, sono diventati uomini e donne, che grazie allo sport hanno ampliato la loro conoscenza, che grazie allo sport hanno viaggiato. In alcuni casi grazie allo sport sono rinati e grazie allo sport hanno creato dei legami di amicizia indissolubili, come nel mio caso che neanche più di 600 chilometri può rovinare.